Bentornati a Scuola con Raffaello. Oggi siamo in compagnia della professoressa Anna Maria Ambrosini Massari, storica dell'arte, alla quale abbiamo chiesto di fare una cosa estremamente impegnativa, cioè di tenere una lezione cornice, che ci parli nell'arco di un'oretta, perché questa è più o meno la durata delle nostre lezioni, della vita e dell'opera di Raffaello, quindi dovrà farlo necessariamente più in fretta di quanto avrebbe voluto fare, di quanto riterrebbe doveroso fare, ma questa lezione cornice ci sarà utilissima poi per incasellare invece tutte le altre lezioni del corso, quindi grazie molte per questa disponibilità. Bene, una sintesi, una cornice e quindi forse penserei di poter offrire alcune chiavi di lettura, alcuni spunti che saranno indubbiamente tutti poi svolti dalle lezioni specifiche sui periodi, sulle specializzazioni di questo grandissimo artista ricchissimo di sfaccettature. Per questo aspetto mi piace cominciare sottolineando che in qualche modo Raffaello è predestinato alla grandezza, all'eccezionalità, fino dalla sua nascita e anche nella sua morte, a parte che anche questa vita breve e intensissima, ricchissima di lavoro è già un dato eccezionale, ma per le testimonianze con qualche discrepanza delle fonti, Raffaello dovrebbe essere nato il 6 aprile, probabilmente il 6 aprile del 1483, morirà la notte del 6 aprile del 1520 e notti, giorni, che erano entrambi venerdì santo. Quindi vedete che una sorta di mitologia già avvolge la vita, la morte di questo artista e questo mito in qualche modo si lega anche proprio alla sua natura che dominerà con grande forza e con grande intelligenza tutti i diversi settori dell'attività, la pittura, l'architettura, il disegno, la produzione imprenditoriale della fase matura della vita che riguarda i cartoni dei perliarazzi, le decorazioni delle logge, l'insieme complessivo della sua attività, ma la mitologia che lo avvolge e che in qualche modo ne fa fin da subito un individuo predestinato in qualche modo alla grandezza. Una grandezza di cui lui era assolutamente consapevole. Vediamo che nella scuola di Atene, uno dei più importanti, celebri affreschi delle stanze vaticane, lui si ritrae, si ritrae proprio in quel contesto altissimo e profondamente segnato dall'aspetto intellettuale, raziocinante, il mondo dei filosofi e degli scienziati, è proprio un modo per sottolineare questo passaggio che grazie a lui, ma anche grazie a questo terzetto titanico di artisti che sono Raffaello, Michelangelo e Leonardo, questo riscatto dell'artista rispetto all'intellettuale, rispetto all'uso della mano nella propria attività perché tutto il suo lavoro, tutta la sua carriera, la sua attività dimostrerà che in realtà la tenuta intellettuale, la posizione, diciamo, intellettuale, creativa e ideativa della sua carriera è assolutamente in primo piano. In questo affresco ci sono diverse ipotesi sulla figura che lo affianca, una delle ipotesi, certo è un'ipotesi, ma così suggestivamente ci serve per richiamare la figura del padre che potrebbe essere questo volto sovrapposto al suo proprio perché la nascita di Raffaello, la nascita Urbino, la nascita come figlio di un artista, Giovanni Santi, un pittore sicuramente molto importante per il suo ruolo anche lui, davvero di artista complessivo, scenografo, scrittore, un grande e importante personaggio della corte dei Montefeltro che sicuramente più che come pittore ha saputo però indirizzare verso grandi maestri, grandi modelli, verso mete altissime fin da subito Raffaello. Questa individuazione così alta, importante della figura di Raffaello, la mitizzazione, diciamo, che porta un po' con sé, riguarda anche la sua personalità, il suo carattere. Come diceva Vasari, proprio all'inizio della vita di Raffaello, Michelangelo ha vinto, l'arte di Michelangelo ha vinto, ha trionfato sulla natura ma Raffaello vince anche con i costumi. I costumi, cioè la sua dolcezza, la sua docilità, fin dalle prime vite, poi quella più importante, emblematica, e quella sarà quella di Vasari, ma vedete già in questa di Paolo Giovio, siamo verso il 1525, gli vengono riconosciute delle doti che poi ovviamente rifluiscono nella sua arte, in particolare di una bellezza che chiamano grazia, un talento duttile, amabile. Questo dato, che è un dato riscontrabile anche e assolutamente nei documenti più diretti, nelle lettere, nei commenti, nelle tantissime testimonianze che anche quando era in vita noi possiamo ricavare di Raffaello e che lo delineano quindi molto precisamente come una figura così socievole e anche accattivante, portano con sé fin da subito, come vedete già nelle prose la volgarlingua di Bembo, questa contrapposizione appunto con Michelangelo, cioè tanto due grandissimi artisti, due geni assoluti, ma tanto l'uno è dolce e amabile, tanto l'altro sarà poi dipinto e si farà conoscere per una più profonda inquietudine e anche un diverso atteggiamento diciamo nelle sue relazioni e nei rapporti anche con i committenti. Il mito di Raffaello che come vedete però nasce da una precisa e documentata verità e raggiunge poi nell'Ottocento il suo massimo, la sua massima espressione diciamo emblematica e simbolica che viene ricercata diciamo nella rappresentazione delle vite, delle biografie degli artisti come grandi esempi e modelli. vedete questo dipinto di Horace Vernet, siamo nel 1832, Raffaello nel cortile vaticano, vedete che al centro Raffaello che si riconosce, che si gira leggermente circondato da persone, da allievi molto probabilmente che ascoltano attentissimi, che cercano la sua parola, in un contesto che ricorda, che evoca diciamo la dolcezza, la grazia anche delle sue opere come la popolana col bambino che ovviamente evoca il tema della Madonna col bambino, mentre vedete in primo piano Michelangelo che se ne va tutto un po' seccato da solo, un po' così torvo, mentre anche sullo sfondo si intravede Leonardo che passa un po' superiore su questa scena e a sinistra si vede il Papa che si sta distraendo con tutta questa evidentemente, con sesso di geni lo aveva un po' distratto e Bramante lo richiama così ai doveri costruttivi. Questa straordinaria, emblematica rappresentazione del mito di Raffaello, ma più in generale come vedete del rinascimento italiano, chiaramente molto basato su quelle che sono anche le letture delle vite vasariane, è molto importante da tenere presente. Voglio sottolineare questa adesione così sintomatica del film che Sky Art ha dedicato proprio a Raffaello in occasione della preparazione del centenario, si vede molto bene che questo fotogramma è tratto proprio ispirato al quadro di Vernet. Perché è interessante questo? Perché in qualche modo, fuori del mondo dello specialismo, diciamo degli specialisti, il mito è proprio dal mito di Raffaello che si propone la sua conoscenza, che si diffonde la sua conoscenza e quindi, indubbiamente, forse può valere la pena in una lezione di sintesi e di cornice cercare di mettere in evidenza quelli che sono invece gli aspetti che contraddicono questo mito. La incredibile varietà di aspetti, di stili, di momenti, di fasi, di sperimentazioni che questo artista è in grado di mettere in campo e se è vero che la particolare bellezza che chiamano grazia è un tratto distintivo della sua ricerca, della sua ricerca stilistica e anche della sua ricerca etica, di una ricerca che parte dall'idea di poter accarezzare sempre la natura ma trovandovi dentro qualcosa che sia selettivo, che sia migliorativo, che possa essere uno stimolo in qualche modo a trovare dentro di noi elementi di grandezza, elementi di bellezza, elementi di educazione. Sentite un tema che credo molto attuale, importante anche nei momenti in cui viviamo, quindi modelli che possano migliorarci, una ricerca così profondamente anche, come dicevo, etica ma mai idealistica. Oltre a questo va detto che appunto Raffaello è in grado di mostrarci, di aprirci, di squadernarci una tale possibilità di variazioni, di registi stilistici e di visione pittorica, di apertura anche ad epoche, a temi, a modelli che saranno quelli del futuro dell'arte italiana e non solo del futuro prossimo ma del futuro anche più lontano, come vedremo, va assolutamente sottolineato. Proprio perché non bisogna capire questo mito di Raffaello perché ha la sua importanza per poi farcelo conoscere meglio in tutte le fasi anche della sua profonda influenza nella storia dell'arte, del gusto italiano, europeo e internazionale, ma bisogna anche capirne la incredibile qualità di artista multiforme, onnivoro, ricco di sfaccettature. Ecco quindi che se noi guardiamo una delle sue opere più famose, una delle sue opere, anzi la sua opera, la sua ultima opera realizzata tra il 18 e il 20, la trasfigurazione commissionata dal futuro Papa Clemente VII per la cattedrale di Narbonne, vediamo che siamo di fronte a una costruzione complessa divisa addirittura in due registri precisi con praticamente la messa insieme della trasfigurazione appunto di Cristo ma anche di una scena, il miracolo dello sesso con una costruzione che annuncia, apre già verso quello che sarà la complessità, l'inquietudine, la nuova dimensione scomposta dell'incipiente clima nuovo che sarà poi quello manieristico. questa commissione era nata a fianco per lo stesso committente a quella di un artista con cui variamente Raffaello si trova a interfacciarsi, già era venuto nella Farnesina all'inizio del secondo decennio e anche a Sebastiano del Piombo viene commissionato per lo stesso luogo questo tema, la resurrezione di Lazzaro, è un artista in grandissima vicinanza di formazione veneta molto vicino alle emotività, alla monumentalità, alle inquietudini di Michelangelo ma ci porta dentro un contesto di cui assolutamente Raffaello è partecipe ed è quel contesto che già attraverso le inquietudini spirituali che a un dipresso porteranno proprio attorno al 20 e subito dopo sempre in maniera più coerente e forte a sentire il peso della riforma protestante di una serie di sconvolgimenti che porteranno poi a quella 1527 quando con il sacco di Roma davvero questa sembra che la civiltà di equilibrio, di armonie, di modelli, di possibilità che Raffaello aveva larghissimamente contribuito a costruire viene messa in grandissima crisi. Il sacco di Roma nel 1527 sconvolgerà profondamente tutto il contesto civile, religioso e anche gli artisti che seguirà una diaspora da Roma in quel periodo e l'inizio davvero di una nuova epoca di grandi, profondissime trasformazioni e inquietudini. Ma come vedete Raffaello apre, avverte, sensibilizza attraverso la grande e sempre continua attenzione anche ai modelli di Michelangelo, vedete qui ho preso un particolare dell'incendio di Borgo, quindi già siamo nel 1514, vediamo che in una personalissima versione della bellezza indubbiamente della statuaria antica che viene però qui già molto influenzata dai modelli titanici di Michelangelo e da questo plasticismo dei corpi così sentito e così in movimento diciamo. E quindi un continuo aggiornamento dello stile, è una apertura tale che tocca e toccherà gli interessi degli artisti più disparati e anche apparentemente potremmo dire molto diversi da quella che è così, la definizione forse più, come dire, più funzionante che però stiamo in parte mettendo in crisi di Raffaello come pittore della bellezza che chiamano Grazia. Tant'è vero che sarà interessante notare come Caravaggio nel martirio di San Matteo viene profondamente colpito proprio dalla scena della trasfigurazione, da una particolare sezione della scena della trasfigurazione e come quindi questo artista sappia parlare davvero a largo spazio di tempo e anche di diverse tematiche, di diverse poetiche come sarà quella del realismo di Caravaggio. D'altra parte anche se osserviamo un dipinto forse fra i più noti di Raffaello, la Madonna Sistina che oggi si trova a Dresda ma che era stata eseguita per la chiesa di San Sisto a Piacenza, questo dipinto notissimo, forse anch'esso abusato nella sua a talora così oleografica riproduzione di certi aspetti così aggraziati e dolci come per esempio i due angioletti in primo piano, è in realtà una rappresentazione in cui la sostenutissima sintesi formale e coloristica dell'immagine apre su uno scenario nuovo, su uno scenario di un'apparizione quasi già seicentesca, protobarocca, in questo spazio che non c'è, in questo mondo di nuvole, appare la Vergine e c'è anche un fortissimo aspetto di coinvolgimento scenografico rispetto allo spettatore. È un modello, è un'opera come la maggior parte delle opere di Raffaello che avrà grandissimo successo nel tempo, ho scelto qui quest'immagine di Jean-Auguste Dominique Ingres che è un grande pittore del classicismo ottocentesco ma che nel risentimento di questi aspetti proprio di apparizione dell'opera dimostra anche la sensibilizzazione come d'altra parte nel classicismo ottocentesco è presente ormai di una dimensione in cui anche un aspetto è più inquieto, un aspetto che comunque fa parte della cultura romantica sa trovare anche in questi modelli. E d'altra parte vorrei proporvi la lettura incredibilmente poetica, bellissima, che di questo dipinto, di un particolare, soprattutto di questo dipinto ci dava Longhi, nel 1953 in occasione della mostra di Lorenzo Lotto a Venezia. Parlando di Lorenzo Lotto a un certo punto la comprensione stessa di Lotto, l'incrocio con Raffaello e d'altra parte l'incrocio c'è a Roma proprio nelle sale vaticane attorno al 1508, osservando la Madonna Sistina Longhi diceva che in particolare guardando un aspetto, quel ferretto, il ferro che sostiene la tenda, Longhi diceva, trovava questo particolare, un particolare puerile, chiesastico, da sagrestia, quindi nulla di roboante, nulla di olimpico, una cosa così umile, no? Non solo della tenda legata agli anelli, ma degli anellini ora più e ora meno tirati, addirittura del ferretto già usato, che quasi si teme che debba cadere e graffiare il quadro. Sentite che è già una lettura proprio precaravaggesca che Longhi fa e che poi collega a qualcosa che evoca più che Raffaello, un tratto illusionistico, ci sembra, dice, di vedere un tessuto, una stoffa proprio dell'Otto. Quindi la possibilità incredibile, le potenzialità incredibili di questo artista nel rielaborare anche modelli molto diversi fra loro e farne sempre qualcosa di originale e di ricchissimo di proposte e di possibilità diverse, anche diversissime, nell'espressione artistica. Un altro dipinto che ritengo che debba in questo senso essere ricordato è l'estasi di Santa Cecilia della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Un dipinto che viene mandato appunto nella cappella funeraria di Elena Duglioli dall'Olio, poi la beata Elena Duglioli, un dipinto nel quale questa meditazione sulla santa protrettrice della musica e su un'idea della musica che rapisce, che porta oltre la dimensione umana, viene svolta però, vedete, in una messa a punto di questo gruppo di figure monumentali così presenti, così forti nella loro esistenza e nella loro anche, come dire, individualismo, per cui da un lato vediamo che la figura centrale di Santa Cecilia diventa, questo è un dipinto, è un modello che sarà fondamentale, guarda caso, non solo per la rinascita della pittura bolognese nel secondo Cinquecento, soprattutto nell'ambito caraccesco, poi per Guidoreni e per tutto il Seicento, ma se ne ricorderà e sarà un modello importantissimo a larghissimo raggio, citerò solamente qui Rubens che la ripensa intensamente nei suoi dipinti della Chiesa della Vallicella a Roma, è un grande modello per uno dei temi più importanti della pittura del Seicento, la meditazione sul santo, la meditazione sul santo, una strada importante di ingresso, diciamo, nel mondo individuale attraverso le iconografie possibili che erano comunque di tipo religioso, è incredibile come questo dipinto diventi un modello appunto per contesti anche molto lontani e anche molto differenti. oltretutto è particolare come la Santa Cecilia sia veramente, no, vedete, astratta da tutto, in colloquio con il mondo superiore, mentre i Santi, vedete, sono un po' San Paolo, molto pensieroso, molto preso da qualche pensiero, sembrerebbe abbastanza concreto, la Maddalena che guarda intensamente verso lo spettatore e San Giovanni Evangelista e Agostino che parlano fra loro. Quindi la mescolanza fra, come dire, il trascendente e l'immanente ha una forza inventiva incredibile che si specchia infine in quel tratto di natura morta che è, come dire, forse potremmo davvero dire che anche in questo versante Raffaello apre davvero su quella che sarà una tradizione molto importante per le epoche a venire e anche per il Seicento. Ecco, quindi vorrei con questi spunti in qualche modo sottrarre Raffaello da una lettura talora un po' oleografica che il fatto di essere il grande campione del classicismo e cioè di questa in realtà incredibile, eroica fiducia nella grandezza dell'uomo che trovava in particolare in questo momento del Rinascimento italiano nel recupero dell'antico una fiducia, una certezza, un seme di futuro. Era un recupero dell'antico non drammatico come sarà quello del Settecento ma un recupero dell'antico che aveva una grande fiducia nel fatto che la contemporaneità potesse misurarsi pur con questi giganti con una nuova proposta di verità, di certezze, di bellezza. Il fatto di essere il campione però del classicismo che nel corso dei secoli poi ha vissuto diverse stagioni anche, come dire, forse diventando poi soprattutto alla fine dell'Ottocento quel versante più legato al mondo accademico ha comportato che soprattutto nel primo novecento Raffaello ha vissuto forse l'unico suo momento di difficoltà nella, diciamo, di essere sentito, diciamo, dal mondo dell'avanguardia storica da quel mondo che voleva distruggere tutto quello che era il passato soprattutto tutto quello che era accademico diventava un po' un bersaglio centrale e quindi l'importanza degli studi del Novecento e l'importanza anche di questi centenari credo che sia proprio poter riproporre ricomprendere anche per un più vasto pubblico la complessità di artisti così ricchi appunto di sfaccettature quindi il pittore forse più noto, diciamo, delle straordinarie Madonne col bambino che è anche indubbiamente uno dei versanti della sua produzione ecco, però è una parte della sua ricchissima personalità d'altra parte anche queste, e qui vediamo la belle jardinière vediamo come anche in questa Madonna col bambino e San Giovannino la costruzione di Raffaello che è una costruzione piramidale dove la sintesi e l'attenzione strutturale appunto ha una verità che va oltre che va al di sopra di quella, diciamo, della conoscenza del quotidiano non rinuncia mai a valori sensitivi ai rapporti e alle relazioni con il paesaggio con le nuvole, con i moti anche dell'animo che sempre di più quando sarà a Firenze studierai attraverso la pittura di Leonardo non è appunto mai una rappresentazione idealistica in questo senso la varietà dei linguaggi si sposa, a mio parere, anche appunto a una varietà degli stili a un procedere, diciamo, della sua cultura artistica figurativa e delle sue scelte che comportano fasi diverse abbastanza ben riconoscibili la fase molto più difficile, oscura della formazione la cosiddetta fase Umbra che con il 1504 alla fine del 1504 lui va a Firenze comincia la fase fiorentina anche se rimarrà ancora per qualche anno legato alle committenze Umbra all'attività, diciamo, per l'Umbria, per Perugia la fase fiorentina, quella romana costituiscono dei periodi, dei momenti legati a certe opere ma all'interno di questi momenti ci sono incredibili sperimentazioni fasi di mutamento anche profondo vi propongo qui i due ritratti anche perché così conosciamo quelli che sono i due grandi papi che hanno protetto e accompagnato la carriera di Raffaello vedete Giulio II della Rovere è un dipinto del 1511 circa e invece il ritratto di Leone X con i nipoti che è del 18 perché ve li propongo insieme a parte la conoscenza immediata di questo contesto di continuità diciamo dei più grandi dei più importanti committenti di Raffaello a Roma noi vediamo direi un notevole mutamento dello stile dal punto di vista della vedete nel ritratto di Giulio II con questa malinconia che è un dato molto particolare che contraddice quello che noi sappiamo di Giulio II dalle fonti che era invece un personaggio piuttosto focoso e particolarmente fattivo vedete la chiarezza questa meravigliosa orchestrazione di rosso, bianco, verde una chiarezza, una nitida espressione dell'immagine mentre nell'altro dipinto nel quale probabilmente forse ci sono interventi di collaboratori molto probabile che i due nipoti siano stati aggiunti dopo e che sia stata cambiata la composizione che forse poteva inizialmente essere stata pensata anche a fine all'altra ma vedete che il risultato è poi quello di gorghi di scuri anche nei velluti nei rasi questi gorghi scuri queste ombre questi volti torvi anche se illuminati da questa figura meravigliosa del papa intellettuale del papa che con la lente lì che guarda un codice miniato che è un omaggio anche al grandissimo mecenate che in effetti Leone X era e anche se guardiamo la bellissima il bellissimo affresco della liberazione di San Pietro siamo nella stanza di Eliodoro siamo nella stanza che più che mai si sta rivelando anche quei recenti restauri di grandissimo interesse proprio per un mutamento del linguaggio di Raffaello vedete che qui ci troviamo in un meraviglioso notturno un notturno che sensibilizza anche dal punto di vista tecnico aspetti atmosferici che guardano moltissimo a Leonardo non dimentichiamoci che fra il 13 e il 16 Leonardo soggiorna Roma e quindi ancora una volta vediamo che gli scarti di stile i mutamenti dello stile di registri sono incredibilmente vari e possenti della carriera di Raffaello un altro esempio potrei farne moltissimi scelgo questo di questo dipinto mirabile piccolissimo della visione di Ezechiele che si confronta vedete con quelli che sono abbiamo parlato di Leonardo abbiamo già parlato di Michelangelo dobbiamo riparlarne in quanto Michelangelo è un punto di stimole di riferimento continuo per Raffaello e vedete come anche qui questo movimento questo dinamismo questa anche appunto in qualche modo terribilità che veniva dal Michelangelo della decorazione sistina che viene sono modelli che poi vengono coltivati variamente anche in altri spunti in altre opere da Raffaello è molto importante per dimostrarci la varietà degli stili e dei modi di Raffaello questo però non significa che alla base di tutto ancora una volta ribadiamo non ci sia una una tradizione che indubbiamente anche urbinate alimentata innovata in qualche modo dalla figura di Perugino alla figura di Perugino che è un artista che in qualche modo compie una sintesi un po' fra la cultura verrocchiesca fiorentina e la grandissima acquisizione anche della della tradizione pierfrancescana e quindi diventa davvero anche per questo il il grande maestro di Raffaello questo è un confronto in cui il tema anche architettonico che è uno dei temi portanti degli interessi di Raffaello dell'attività di Raffaello ma in qualche modo sostanziale diciamo del suo DNA urbinate se vogliamo dire ecco si specchia in questo celeberrimo confronto fra due dipinti due sposalizzi della Vergine di Perugino e di Raffaello in una fase in cui sono molto molto vicini molto sicuramente a contatto e in qualche modo questo dipinto di Raffaello vedete firmato e datato orgogliosamente nella fronte del del tempietto dimostra anche la piena consapevolezza di una fase di acquisizione di una maniera ecco un confronto importante come lo sono mi auguro quelli che stiamo facendo in generale il confronto è comunque sempre il terreno di giudizio nelle opere d'arte non si può parlare di un'opera in assoluto ogni opera si confronta e si relaziona con altre ogni artista si relaziona con il contesto e anche fuori del proprio contesto con i modelli quindi il confronto è la base per ogni giudizio ma va detto che ci sono dei confronti che sono particolarmente importanti e connotativi e questo indubbiamente è un confronto che è anche un grande tema a lezione per capire proprio lo scarto il cambiamento che avviene in certi momenti particolarmente accesi diciamo di di novità come è questo di cui sta operando Raffaello e che si appoggia su una personalità come la sua perché vedete qui noi abbiamo il confronto per eccellenza cioè abbiamo due artisti diversi uno stesso tema due opere realizzate molto vicine a distanza davvero di un anno poco più e che ci consentono quindi a pieno di cogliere somiglianze e differenze e le somiglianze che si vedono molto bene nelle tipologie nella stessa idea cioè si vede molto bene la vicinanza stilistica la derivazione diciamo di Raffaello da Perugino ma si vede anche che Raffaello qui compie uno scarto e qui è lo scarto è il passaggio è l'apertura di una porta nuova che Perugino aveva assolutamente si era avviato proprio nelle vicinanze aveva socchiuso quella porta ma Raffaello l'apre la porta della maniera moderna è la porta attraverso la quale entriamo in un mondo in cui la figura umana il paesaggio i rapporti spazio-temporali le relazioni interne al quadro il tema del messaggio che dall'opera deriva assume una connotazione nuovissima sintetica che si relaziona con l'antico in un modo assolutamente nuovo guardate come in particolare il tema della riflessione del cambiamento della presenza architettonica che troviamo nel dipinto il Raffaello la circolarità la circolarità è il tema principale anche nel gruppo delle figure vedete non c'è più questa barra così ostacolo di figure che sembra una banda che blocca la visuale in Perugino le figure si sciolgono diventano di meno si muovono con un movimento circolare e il tutto va verso quel tempietto che appunto si pone all'interno di una tematica che è quella del recupero dell'antico del tempietto appunto a pianta centrale che poco poco prima aveva avuto a Roma nel tempietto di San Pietro il Montoro di Bramante un modello essenziale ma che devo dire affonda le radici sia di Bramante che di Raffaello nella cultura urbinata nella cultura da un lato architettonica nei grandi progetti di Francesco di Giorgio Martini ma insomma più in generale in quella che Longhi chiamava la luce di Piero una dimensione di luce prospettiva che come dire Raffaello assorbe fin dalla nascita fin dal contesto della sua vita all'interno di quel mondo di quel mondo ducale di quel palazzo ducale e con un'apertura una capacità di conoscenza del nuovo e anche di ciò che veniva da fuori diciamo di quel contesto assolutamente molto precisa ecco perché io ritengo che la Madonna di Casa Santi sia di Raffaello perché nonostante l'affresco sia molto rovinato ha una idea formale un'idea plastica e anche un modello di riferimento che non può non relazionarsi con la Madonna Pazzi di Donatello e che poi trasmigra nelle Madonne col Bambino anche a un dipresso di Raffaello come la bellissima Madonna di Pasadina e poi in qualche modo continua a produrre quella che è il nucleo di riflessione appunto di Raffaello sul tema che si svilupperà nelle Madonne Fiorentine ho scelto qui l'esempio della Madonna Tempi è una la luce di Piero appunto è anche una 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 tono assorto solenne una dimensione così che assorbe così tanto quella che era la lezione di Piero che io credo che pur con la stima grandissima per la cultura e l'intelligenza di Giovanni Santi in Giovanni Santi noi non potremmo mai trovare d'altra parte che questo giovinetto fosse e mi piace definirlo con questo bel titolo che era il titolo del film di Martone a un altro grande genio marchigiano e un altro giovane favoloso che è Giacomo Leopardi un giovane favoloso noi lo possiamo lo sappiamo con certezza grazie ad alcuni documenti ma sicuramente a documenti grafici come questi opera sicuramente di Raffaello qualcuno dubita che siano autoritratti per me è molto interessante pensarli anche come autoritratti in due momenti diversi ma in ogni caso sono in particolare quello con lo studio di mano sono dei disegni di veramente aurorali giovanilissimi con questo stile proprio tipico dei primi tempi di Raffaello con queste ombre più dense e certo voi capite che se quello fosse un autoritratto qui vedremo Raffaello molto molto giovane proprio adolescente e lo vedremo forse appunto in quella fase in cui magari poteva anche aver collaborato con Perugino nelle opere di Fano della chiesa di Santa Maria Nuova Fano ma questo è un problema che lasceremo alla lezione sulla formazione certo che una certezza l'abbiamo poco dopo 1500 Raffaello riesce a fare un disegno di tale maturità formale compositiva di ombre di comprensione dei rapporti come è questo che è un disegno importantissimo perché ricchissimo di notizie per noi per la pala che esegue tra la fine del 1500 e i primi mesi del 1501 per la chiesa di Sant'Agostino a città di Castello una pala per cui esiste finalmente un documento i documenti sono molto rari in questi anni e quel documento per la pala di cui vedete purtroppo rimangono solo quattro frammenti quel documento definisce Raffaello Magister è un dato che non dobbiamo dimenticare per capire che abbiamo davanti ma forse anche questo disegno ce lo fa capire è vero che unire il dato documentale grafico e pittorico con il documento del contratto veramente disegna ci dà un gancio di certezze molto importante e anche non così frequente soprattutto in questi momenti sappiamo anche che in questa pala è molto interessante perché evidentemente questo giovane molto dotato in qualche modo aveva chiaramente rapporti con quella che era la tradizione della bottega paterna tant'è vero che in questo contratto lui opera con il più fidato collaboratore del padre evangelista da Pian di Meletto indubbiamente il disegno è tutto suo la bellezza che guarda già molto avanti di questo disegno non ha assolutamente niente a che fare con quelle che sono con quella che è una cultura assolutamente precedente del contesto santiano precedente dal punto di vista proprio dell'elaborazione formale chiaroscurale e compositiva però nel dipinto indubbiamente delle parti magari in collaborazione ma insomma rivelano senz'altro certe durezze che ci fanno riconoscere evangelista da Pian di Meletto e credo che sempre per basarci sul confronto come ripeto unico vero documento per un giudizio sulle opere ecco io credo che guardando questi frammenti sarà evidente per tutti come l'angelo della Pinacoteca di Brescia abbia una raffinatezza una selezione formale con quei capelli così tracciati uno ad uno con una morbidezza incredibile a una attenzione già anche intelligente a Perugino a Pinturicchio a questa eleganza nello stesso tempo un palpito di vita anche in questo movimento così un po' laterale che già disegna quelle che sono le caratteristiche essenziali di Raffaello grandissimo disegnatore fin da subito probabilmente disegnatore per maestri anche sicuramente anche per Perugino ma noi sappiamo con certezza che qualche tempo dopo lui disegna per un altro grande maestro tre grandi fondamentali maestri di questi anni della formazione di Raffaello che tutti incidono comunque in modi diversi sono Luca Signorelli Pietro Perugino e indubbiamente anche Bernardino Pinturicchio con cui lui collabora sicuramente in certi disegni per la decorazione della libreria Piccolomini a Siena in questa fase fra il 1502 e 1504 abbiamo qualche documento in più qualche documento in più che lo fra il 3 e il 4 ce lo documenta Perugia ma soprattutto abbiamo delle opere abbiamo dei commenti molto interessanti di Vasari per esempio in una fase anche di attività importante per città di Castello noi abbiamo la piena consapevolezza di un momento in cui assolutamente se prima ci possono essere dubbi incertezze difficoltà a capire se non altro quali sono i percorsi dei rapporti fra Perugino e Raffaello perché certo la favoletta vasariana di lui portato piccolissimo da Perugino va a cozzare con documenti come la morte di Giovanni Santi nel 94 quando lui era ancora piccolissimo ma insomma in modi diversi che sono anche come dicevo prima l'importanza stessa di Perugino e per Giovanni Santi e per Urbino quindi l'importanza di Perugino comunque fin da subito per Raffaello a mio parere rimane però indubbiamente in questi anni c'è un'adesione allo stile del maestro straordinario tant'è vero che Vasari stesso dice che in questo caso il crocifisso oggi è la National Gallery se non fosse firmato assolutamente noi lo prenderemo per Perugino e qui ho messo un confronto questa è un'opera successiva ma è per dare l'idea proprio della tangenza questo è un modello che Perugino dagli anni dalla fine degli anni Ottanta in poi ci sono diverse versioni dalla fresco di Santa Maria Maddalena dei Pazzi la crocifissione di Monteripido ma insomma Raffaello indubbiamente conosceva le opere di Perugino probabilmente anche la loro trattazione la loro progettualità grafica io credo che la vicinanza come abbiamo già visto molto bene chiaramente per gli sposalizi sia fortissima in questo momento devo dire che è molto interessante anche fare una lettura che non sia sempre scontata a volte anche qui bisogna stare attenti il tema maestro e allievo il maestro che supera l'allievo ricordiamo che Perugino è un artista straordinario Raffaello prende una strada nuova ma va detto che in questo momento la tangenza così forte che in queste opere Raffaello ha nei confronti di Perugino è anche legata al fatto che in quel momento a Perugia era lo stile che piaceva che funzionava e lui anche per questo indubbiamente così attentamente si allinea e con una nuova intelligenza ma in Perugino sicuramente come dicevo Raffaello trovava i lineamenti di quella tradizione culturale urbinate che è prospettica che è luministica ma che è anche fiamminga e che nonostante il trasferimento a Firenze rimarrà per lui fondativa molto importante ma rimarrà anche per i rapporti che lui comunque mantiene con la corte urbinate con la corte della rovere e quindi anche insomma degli este in questi momenti molto importante e voglio proporvi in particolare fra i ritratti ducali questo di Elisabetta Gonzaga consorte di Guidubaldo perché questo ritratto a mio parere condensa veramente questo altro snodo del percorso di Raffaello è già un ritratto che conosce e pensa la luce e l'emozione atmosferica di Leonardo ma è un ritratto che ha ben presente anche in quella quella incredibile tipologia decorativa della veste così come dire così prospettica così geometrica questo mondo appunto urbinate questo mondo della luce di Piero ma anche della luce fiamminga del ritratto fiammingo che è quello dal quale anche attraverso Perugino lui stesso forma la sua specializzazione ritrattistica mi interessa sottolineare come in questo ritratto questo tono ancora una volta assorto quasi arcaico e un po' irreale della ritrattata richiami ancora una volta queste solenni e assorte e metafisiche immagini di Piero della Francesca anche nel ritratto il passaggio il mutamento i modelli si spiegano molto bene qui ho voluto mettere un meraviglioso ritratto di Perugino che dimostra ancora una volta la grandezza di questo artista definito nei documenti in particolare in un documento proprio per l'opera della Chiesa di Santa Maria Nuova fanno Primus Pictor in Orbe siamo nel 1488 i vediamo come in un ritratto anche un po' controverso ma che secondo me delinea proprio questo passaggio in un momento meno conosciuto della produzione di Raffaello tra Perugino e il mondo fiammingo per arrivare poi a quella che sarà la nuova era la nuova fase della mirabolante percorso di Raffaello a Firenze a Firenze con una lettera di Giovanna Feltria della Rovere al gonfaloniere Pier Soderini del primo ottobre 1504 lui arriva probabilmente alla fine di quell'anno e comincia da subito ad essere molto apprezzato e a lavorare per importanti commissioni come per esempio la coppia di ritratti Agno Lodoni e Maddalena Strozzi dove vedete che quella che è il rapporto molto chiaro anche con i dipinti che abbiamo visto prima e con i modelli che abbiamo visto prima si arricchisce di una nuova componente spaziale disegnativa emotiva e dove il disegno la cultura così la sintesi davvero del mondo che potremmo dire da masaccio in poi lui sa riassumere con una attenzione speciale al momento contemporaneo e al binomio Michelangelo Leonardo ma sono tantissimi gli artisti che potremmo citare un altro molto importante fra Bartolomeo vediamo che il raggiungimento di un equilibrio incredibile fra questi temi disegno colore relazione col paesaggio porta a una elaborazione comunque dei modelli che è unica e inconfondibile in questo senso potremmo fare molti esempi di come anche per quanto riguarda il movimento il tema del rapporto con Leonardo e con Michelangelo in particolare per il tema del movimento e del dinamismo con Michelangelo si specchia in alcune invenzioni di Raffaello come la Madonna Bridgewater con questo tema del cosiddetto bambino sgusciante che affonda le rudizie anche molto più indietro nel tempo ma che ha sicuramente in questa fase una serie di sperimentazioni in cui Raffaello si pone assolutamente all'altezza e in piena attenzione dei modelli i modelli sono appunto centrali per lui Leonardo Michelangelo la componente degli affetti ma anche il tema atmosferico il paesaggio le relazioni fra le figure e lo spazio faccio vedere velocemente alcuni capolavori come la Sacra Famiglia Canigiani la Madonna del Prato molti altri potrebbero delineare questo momento così calibrato e cristallino di confronto con queste novità vissute diciamo sul posto con una pienezza di comprensione e di risultati che si svolgerà poi anche nella fase romana il tema della Madonna col bambino e il tema dei confronti con i grandi modelli si compone in un sistema ricchissimo di esempi ovviamente ho fatto alcune selezioni e mi porto verso Roma verso quella che diventerà una riflessione ancora e sempre che ha al centro Michelangelo ed è già anche il Michelangelo che passa attraverso le contorsioni del mondo del Tondo Doni e poi della volta della decorazione della volta della Cappella Sistina ma con un ricordo ancora fortissimo e sempre innovativo anche di Leonardo nella Madonna Aldobrandini indubbiamente ci torna ancora in mente la Madonna Benoit ma tutto è nuovo in questa sintesi di Raffaello tutto è straordinariamente comunque qualcosa che sintetizza e che fonde i modelli in una poetica personale e vi mostro la Madonna della Seggiola che in qualche modo è un po' la sintesi complessiva di questi incredibili passi momenti percorsi di elaborazione di un'idea moderna moderna sensitiva e al tempo stesso sintetica anche dal punto di vista appunto formale della rappresentazione un'opera cardine che non possiamo dimenticare anche perché in qualche modo è pur essendo del 1507 è un'opera che collega ancora questi sono gli anni in cui lui lavora a Firenze ma è ancora molto legato a Perugia molto bella la lettura che fa Roberto Longhi quasi di una fatica a lasciare questo mondo conosciuto amato anche un mondo di affetti la commissione di Atalanta Baglioni per la propria cappella nella chiesa di San Francesco al Prato Perugia compone uno dei più straordinari capolavori della carriera di Raffaello e della pittura italiana dove il tema di un confronto con un soggetto analogo di Perugino che noi sappiamo certamente guardato certamente preso in considerazione lo sappiamo anche dai disegni indubbiamente sarà stato un modello ben noto e quindi probabilmente suggerito anche all'artista vedete anche qui questo confronto come ci spiega la strada nuova di affetti di rappresentazione di creazione di diverse interazioni di gruppi all'interno del quadro vedete le donne sulla destra piangenti mosse come dire che compongono un gruppo emotivamente molto forte e al tempo e invece la composizione così che si distende sul corpo di Cristo con una relazione quasi come dire di contrasto anche col paesaggio ecco alla nuova dimensione di distanza rispetto a questa così spassionata rappresentazione che Perugino aveva dato di questo tema anche qui come vedete protagonista è la riflessione su Michelangelo il tondodoni la figura serpentinata il tema quindi la ricerca sul movimento e al tempo stesso sulla possibilità di rendere un'immagine per sempre assoluta simbolica e comunque chiara nella sua forza espressiva è pienamente realizzato da Raffaello il tema del confronto con Michelangelo il tema del confronto con questa figura che poi è in nuce la figura che sarà il tema più inquieto del movimento interno del manierismo tornerà nelle opere di Raffaello vediamo uno spunto dalla trasfigurazione l'ultima immagine a destra e l'altra viene dalle stanze vaticane e la riflessione su Michelangelo vi propongo velocemente anche questo bellissimo variazione ripensamento indubbiamente di un modello così sublime quale quello della pietà e comunque questa rappresentazione che è anche un tema che attraversa che individua in questo braccio penzolante del Cristo l'idea della perdita della vita Abbey Warburg parlava proprio di una di quelle espressioni sintomatiche pathos formel che attraversano la storia dell'espressione artistica nel tempo e nello spazio ma che in qualche modo non possiamo non evocare almeno in una memoria successiva bellissima che è di Caravaggio ancora una volta vi mostro velocissimamente i due papi perché entriamo adesso nel contesto nel 1508 sicuramente Raffaello a Roma comincia già a occuparsi probabilmente anche per intercessione di Bramante ma insomma un'intercessione che avrà fatto molto piacere a Giulio secondo della Rovere chiamare un Urbinate a Roma e a Roma comincia ad avere oltre a una serie di un grandissimo successo all'incombenza delle stanze vaticane le stanze vaticane ci sarà una lezione che parlerà di questo io velocemente faccio scorrere la la successione di queste stanze che tra il 1508 11 la prima poi abbiamo la ve le mostro velocemente poi ci fermiamo solo su pochissimo perché altrimenti non riusciamo a contenere questa lezione cornice che in effetti è difficile sintetizzare le stanze vaticane rappresentano la decorazione delle stanze vaticane rappresenta davvero un momento cardine della impresa di Raffaello nella tradurre anche un nuovo una nuova fase un nuovo momento della storia della chiesa del rinascimento italiano di questa nuova concordia fra il mondo della bellezza dell'antico e un mondo pagano ma anche di grandi verità di grandi scienziati filosofi di pensiero che la chiesa può tranquillamente affiancare alle sue certezze alle sue verità rivelate in una dimensione universale di esaltazione dell'uomo di quanto egli può raggiungere di quanto egli non può raggiungere senza l'aiuto dello spirito e della religione questo insieme questo dialogo questa dimensione di confronto è il tema sostanziale e in particolare della prima stanza ma anche nelle altre si attraversano queste verità rivelate e questi episodi che testimoniano anche la grandezza del passato ripeto un passato che deve seminare come germe del futuro in particolare la stanza della segnatura vedete come è tutto chiaro non ci sono ombre qui la chiarezza del pensiero Raffaello ha una determinazione sempre molto precisa nel scegliere la è un incredibile regista di questi manifesti di verità che compone in questa evocazione dello spazio dell'antico della Basilica di Massenzio ma anche di Bramante San Pietro quindi l'antico il moderno il contesto diciamo così eletto di pensatori all'interno di questa nuova dimensione dell'antico e della sua spazialità che come dire contiene questa rilancio modernissimo della grandezza del pensiero umano ha al suo centro la conciliazione in qualche modo anche proprio fra la filosofia vanno insieme la filosofia platonica quindi il trascendente e l'immanente Platone e Aristotele vanno insieme avanzano insieme in questa sintesi assoluta che è il tema fondante di questa ricerca di Raffaello nella chiesa moderna e militante nel senso proprio di una costruzione di un'immagine fortissima e bellissima della grandezza di Dio in quanto padre di un uomo che è grande ecco quindi che fra questi grandi potevano inserire Raffaello in uno spazio così centrale importante inserito anche un po' dopo la figura di Michelangelo Michelangelo che pensa con questo atteggiamento tipico dell'uomo e del pensatore malinconico con questa rappresentazione che gira che diventa famosa con la malinconia di Durer ma che affonda le radici molto molto nel pensiero antico e anche nelle immagini antiche il gomito sotto il volto è proprio l'idea del pensiero sofferto del pensiero che viene dal di dentro e che crea anche in qualche modo isolamento un tema che sarà comunque poi diventa uno dei grandi soggetti della cultura figurativa nel tempo o qui ho messo solo alcuni esempi per richiamare la grandezza di questo nucleo ancora una volta di pensiero e di rappresentazione di un argomento la stanza della segnatura il Parnaso ve ne parleranno voglio solo farvi notare come qui il mondo della poesia dove Omero sta con Dante dove non ci sono spazi barriere temporali ma una fusione diciamo all'interno di questa luce della poesia e anche una dimensione di movimento e di spazio nuova vedete sulla sinistra Saffo che quasi esce dall'architettura ancora una volta qui siamo al limite di una nuova acquisizione sperimentazione di Raffaello che guarda Michelangelo e sappiamo che guarda Michelangelo con la complicità di Bramante che lo aiuta a entrare a vedere la volta Sistina indubbiamente i risultati vedete già subito anche in questo affresco dell'Isaia è chiarissimo quanto l'influenza di Michelangelo sia fondamentale per la elaborazione dell'opera di Raffaello anche in questi momenti e in tutte le fasi appunto della sua pittura e anche degli affreschi la stanza di Eliodoro come dicevo è molto importante perché qui Raffaello compie uno scatto ulteriore di volontà di sintesi di confronto con i più grandi linguaggi della cultura figurativa italiana con l'antico col mondo nordico e fiammingo una specie di grande incredibile volontà di mettersi in qualche modo di relazionarsi e di porsi anche in qualche modo in sfida con tutto quello che di più grande era possibile tenere presente e vi mostro velocemente le altre stanze le altre gli altri affreschi della stanza di Eliodoro che ripeto è molto importante per questa nuova dimensione di anche di inquietudine ma anche di appunto attenzione per linguaggi come quello dei veneti per esempio i cromatismi i ritratti la ricchezza di spunti e anche dal punto di vista tecnico vediamo che rispetto alla stanza della segnatura non abbiamo più il tratteggio tipico di Perugino nel lavorare ma l'apertura a corpo e come vi dicevo prima anche in particolare nella liberazione di San Pietro anche dal punto di vista tecnico una velatura d'acqua di calcio e l'uso di questa tecnica che indubbiamente aiuta a favorire questo senso atmosferico diciamo della composizione che è molto debitore di un interesse rinnovato per Leonardo vi mostro due ritratti che spiegano come in qualche modo queste fasi queste novità guardate la manica della velata questa così grande panna montata che dimostra un interesse nuovo e insistito anche per questa morbidezza questo cromatismo che viene dal mondo dei veneti l'immediatezza dello sguardo l'arricchimento e la complessità della cultura anche nel ritratto di Raffaello segue questa fase che possiamo vedere rispecchiata nella stanza di Eleodoro che si completa con questa immagine del leone Emanio e Attila con uno sfondo che evoca Roma evoca la sua bellezza la sua importanza i suoi monumenti a cominciare dal Colosseo come vi dicevo come abbiamo già detto lo dico più velocemente con l'incendio di Borgo entriamo in una fase in cui Raffaello avverte sempre di più la sua importanza la sua centralità per la politica ormai di Leone X scrive questa lettera allo zio dove gli racconta che appunto ha avuto una nuova stanza nuove affreschi nuove opere da decorare ed è stato nominato architetto della fabbrica di San Pietro la sua ascesa è sempre più veloce è sempre più alta e soprattutto in questa fase noi vediamo come ancora Raffaello va avanti continua la sua sperimentazione la sua mescolanza stilistica la sua attenzione connaturata all'architettura diventa un'attenzione a tutti gli stili architettonici un'indagine delle possibilità della dimensione anche architettonica siamo in una fase epica tragica del suo stile come è stata definita e come dice Longhi ecco l'oratoria rivolta a poesia sempre più Raffaello è coinvolto in imprese anche estremamente complesse e sicuramente sono questi gli anni in cui i suoi aiuti i suoi collaboratori cominciano ad essere molto presenti ma ci rendiamo conto di come l'impresa delle stanze va a unirsi ad altre incredibili imprese come per esempio già sicuramente con un pagamento fra il 15 e il 16 si compone questa grande serie dei cartoni per gli arazzi che vengono poi esiguiti nelle fiandre per la Cappella Sistina un altro momento di incredibile sperimentazione dove vedete queste possibilità anche degli stili architettonici aprono verso orizzonti nuovi anche qui non posso non evocare quanto comunque Raffaello apra davvero sul mondo che ha da venire il baldacchino di Bernini è un po' evocativo ma mi sembrava che spiegasse ancora la grandezza di questa elaborazione di questa natura ideativa diceva Longhi e di Raffaello aggiungiamo natura sperimentativa niente di idealistico niente di cristallizzato sono questi gli anni in cui anche grazie ad alcune commissioni come proprio appunto la stufetta per la decorazione della stufetta per il cardinale Bibiena il cardinale Bernardo Dovizzi da Bibiena che possiamo ricordare nel 1514 scrive proprio Raffaello che gli aveva offerto addirittura in moglie una nipote Raffaello è completamente entrato quasi anzi senza quasi alla pari dentro un mondo che agli artisti fino a questi momenti era in qualche modo cioè che passavano attraversavano affiancavano ma non in questa dimensione alla pari come fa l'amabile Raffaello nella decorazione della stufetta come nella importantissima impresa delle loggie vaticane della loggia di psiche nella villa della Farnesina tutte queste imprese che comportano voi capite squadre incredibili al lavoro ma anche una fortissima tenuta inventiva da parte di Raffaello siamo negli anni di Raffaello imprenditore ma anche del Raffaello che sempre di più si fa prendere coinvolgere dallo studio dall'interesse dalla volontà di capire di conoscere l'antico e devo dire che in questo confronto che ho voluto mettere di uno spunto dalla Domus Aurea accanto alla stufetta Bibbiena mi preme sottolineare ricordare così anche un fatto personale quando io andai la prima volta a vedere la Domus Aurea che tra l'altro era stata chiusa per moltissimo tempo ricordo che rimasi delusa la Domus Aurea la villa di Nerone noi sapevamo sappiamo che appunto gli artisti ci sono i bellissimi racconti di Vasari venivano calati nelle ceste per copiare dentro le grotte quindi questa pittura appunto si chiama delle grottesche questa pittura del mondo antico ma quella pittura mi lasciava come vagamente delusa non riuscivo a capire perché poi pensandoci mi sono resa conto che in realtà la mia percezione dell'antico era quella di Raffaello che non dà appunto una dimensione copiativa o appunto idealistica di questo di questo mondo e di questa decorazione ma la innova dal di dentro in una narrazione in una dimensione di colore narrazione in una tipologia anche proprio decorativa che è assolutamente nuova e moderna e la nostra immagine dell'antico è in gran parte legata a quella che Raffaello nelle logge forse soprattutto ma nelle logge nella stufetta bibiena nella logge di psiche reinventa con una ricchezza e con una forza anche proprio tattile quasi della decorazione che è la base davvero la base il fondamento della decorazione per secoli e che verrà rinnovata e riscoperta in particolare nei grandi momenti di Revival dell'antico come sarà per esempio il Settecento ma anche nel Settecento l'importanza centrale della decorazione di Raffaello rimane assolutamente la versione moderna e forse ancora interpretativa ma ancora che meglio ci fa comprendere anche quel mondo del passato non posso entrare non voglio entrare nel tema dell'architettura che avrà una importante trattazione dico solamente che in questo contesto di grande interesse per l'antico di studio di diverse possibilità diciamo della sua riproposizione indubbiamente in architettura Raffaello proprio cerca di ispirarsi a quelli che erano i modelli antichi in particolare le descrizioni delle ville di Plinio sono fondamentali per il progetto di Villa Madama che gli viene commissionato sempre da Leone X e dal nipote Giulio fra il 18 e il 20 qui vediamo la bellissima loggia con il giardino all'italiana sullo sfondo anche qui sono opere condotte gestite con i collaboratori ma con la sua sempre nitida visione controllo inventivo ideativo questo uno spunto dal distrutto Palazzo Brancogno dell'Aquila dove vedete questa davvero poesia sinfonia di pittura scultura architettura che disegna ancora una volta qualcosa che è una sintesi e una interpretazione e una sintesi anche per il futuro dell'idea dell'antico ecco sono questi gli ultimi anni in cui Raffaello però ha la possibilità di lavorare moltissimo anche come architetto ma anche perché riceve l'importante incarico da Leone X di prefettus di soprintendenza responsabile tutti i reperti tutti i marmi e le lapidi di Roma e di intorni che venivano scavati dovevano essere sottoposti a lui doveva valutarli guardarli vedere ciò che testimoniavano le testimonianze quindi letterarie vedete che incredibile figura di artista intellettuale letterato che proprio scardina la dimensione precedente della così più ristretta dell'artista e la sua impresa in questa fase rientra anche il progetto affidato a Fabio Calvo al filologo Fabio Calvo del volgarizzamento del tevitruvio ed architettura ma la ultima titanica impresa di Raffaello in questo versante è proprio quella che doveva essere la ricostruzione grafica impianti inalzato in sezione dei principali monumenti delle 14 regioni di Roma antica purtroppo un'opera incredibile che si interrompe per la morte che si collega anche alla stesura vedete a fianco di Baldassarre Castiglione in collaborazione con lui ma a fianco non in posizione sicuramente subalterna della famosa lettera a Leone X sull'architettura classica collegata a questo progetto siamo al culmine di un'attività ma anche di un'ascesa e di un ruolo nuovo che Raffaello riscatta per sempre all'artista di una dimensione anche sociale acquisita alla pari coi grandi il cardinale Bibiena gli offre la nipote in moglie ma lui si può porre a fianco anche dei grandi personaggi dei grandi intellettuali del tempo suoi amici ma che veramente vive alla pari proprio sotto tutti gli aspetti come Baldassare Castiglione che vediamo qui nel meraviglioso ritratto in beige e nero che lo indimenticabile nella sua forza diciamo espressiva e nel canone dei pittori eccellentissimi accanto a Raffaello troviamo Leonardo Andrea Mantegna Michelangelo Giorgione ma ovviamente è Raffaello in primo piano ecco Raffaello doveva essere più o meno così quando era il grande maestro che a Roma si inseguivano schiere di allievi amato da tutti circondato dall'omaggio dei più grandi lo vediamo qui in questo bellissimo doppio ritratto e appunto solo la morte una morte improvvisa per una febbre che l'aveva colto che una terribile febbre continua ed acuta lo porta via nella notte del 6 aprile del 1520 e verrà sepolto nel panteo nel panteo in quella in quella parte che appunto lui aveva predisposto aveva fatto restaurare di un monumento che è un po' il simbolo è il simbolo di quella di quell'antico di quella riscoperta dell'antico di quella spazialità di quella dimensione che da Urbino a Roma accompagna questa mente così lucida ma anche ricchissima di di venature di sfumature della ricerca artistica di Raffaello e il famoso distico appunto redatto dagli amici Tebaldeo e Bembo sottolinea ancora una volta la disperazione della perdita di Raffaello pianto dalla natura che temeva di essere vinta ma che ora si sente morire e quindi questa questo questo tributo a Raffaello proprio come pittore che pur avendo innalzato manifesti così universali di verità di ricchezza di stratificazioni che vanno dall'antico ai modelli più variegati non ha mai dimenticato quel tema che è la natura ed è la sua dimensione che sottrae ogni immagine alla componente idealistica fin da subito grandi incisori in particolare Marco Antonio Raimondi diffondono la grandezza di Raffaello attraverso le incisioni tratte dalle sue opere che diffondono fin da subito e per sempre la grandezza di Raffaello delle sue invenzioni la loro incredibile varietà in Italia in Europa e in una fama universale che non conosce fine traurne raffaello l'illietta della